Mi nomi di Patrice, di Filia, di Spiritus Sancti, Chiri e Leison, Chiri e Leison, Christi e Leison. Io credo che dobbiamo fare, importante per tutti i giovani, che ci deve essere il paneasimo, come lievito nuovo, nuovo lievito vecchio, rivestitevi di un'essenza nuova, non è quella malissima che vi portate avanti dei giorni e giorni. E il nostro Signore le presenta in spirito e verità, più che per quanto riguarda la carne e il tesuto, come dite voi. E quindi il giudizio che voi potete vedere ed è stata una riflessione profonda del periodo in cui noi saremo su questa terra. E il Signore valuterà tutto quello che è il nostro operato per la nostra esistenza. e il Signore valuterà tutto quello che è il nostro operato per la nostra esistenza.